Mi parli di questo paese? Questo paese apparentemente ve lo vede, no? Un paese povero, miserabile. Non c'è niente, non c'è lavoro, dottore. Non ci sono manco i fognatori, l'acqua. L'acqua arriva una volta, niente, una volta alla settimana. Un'ora. E bisogna fornire a tutto il paese. Non c'è niente completamente. Una volta, una volta c'era una biblioteca comunale. Bella, anzi è tenuta bene, curata. Che cosa vuole? I topi, stanno mangiando. C'era un teatro comunale, come parte se ricorda, quando venivano le operette sul teatro comunale. Niente, è a pezzi, sta dirottando. Non c'è niente. Non avete proprio niente, allora, dottore? Niente, niente. Cazzo, l'unica cosa, dottore, l'unica oro, veramente oro. In questo paese sono questi ragazzini. Sì, ma c'è anche una statistica, si dice che questo sia il paese con la più alta mortalità invadita d'Europa. Molto, molto esterno, dottore. Infezione, epatite, tifo, ci posso dire, qualsiasi tipo di malattie, ci sono dei ragazzi magari che restano cegli. Come vanno? Come si spostano anche da qui per andare in città a fare saturare? Poi, un, dottore. L'ospedale, non c'è niente. L'ospedale, non c'è niente. Mergo.